Si raccusa a droga, la polizia d'estate ciuffa un corriere sequestro a 2 kg e 400 di marivana. Il poliziatore della squadra mobile del commissariato di Aula nel pomeriggio di ieri hanno arrestato Salvatore Piccione, avolese, di 55 anni per il reato di trasporto e detenzione di sostanza stuprofacente e di materiale utilizzato per il confezionamento. Gli investigatori della squadra mobile nel corso dei controlli effettuati nel capoluogo hanno notato un'autovettura con a bordo un uomo che si è incontrato con fare sospetto con un'altra autovettura, come se avesse un appuntamento. Infatti il conducente del secondo veicolo scendeva dal proprio mezzo e si sedeva nella prima autovettura. I poliziotti, bloccati dall'autovettura sospetta, hanno operato una prerequisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare 2 kg e 400 di marivana. L'agente per il cospicuo quantitativo di sostanza stuprofacente è idonio a confezionare oltre 3.000 dosi di droga e del valore di mercato della stessa pari a oltre 20.000 euro e dei precedenti dell'uomo lo hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari con l'ausilio dei colleghi di Avola in quanto lo stesso IVI residente.